Questa mattina il servizio di scuolabus per gli studenti delle scuole fanesi ha avuto il battesimo del fuoco. Pulmini nuovi di zecca come anche gli autisti. Dopo la passata in bianco della scorsa settimana che aveva gettato nel caos più totale famiglie intere, costrette a correre ai ripari con tutti i disagi del caso per portare i bambini a scuola ed i servizi educativi del comune di Fano tra l'incudine ed il martello, sepolti dalle telefonate di protesta dei genitori e la nuova società che ha nascosto di essere in impasse con mezzi e personale. Oggi agli stalli l'assessore Samuele Mascarini e i colleghi dei servizi educativi hanno voluto monitorare personalmente, come ci ha dichiarato lui stesso durante la diretta delle 7.45 sulla nostra emittente, lo svolgimento regolare del servizio per assicurarsi che quanto gli aveva riferito la società fosse stato messo in atto. Il servizio è partito questa mattina, ovviamente ci sono alcune cose da mettere a registro perché i percorsi sono nuovi per cui qualche errore qua e là sicuramente l'abbiamo registrato, però nel complesso ci sembra che dai primi feedback il quadro sia stato abbastanza positivo. Sicuramente ci vorrà ancora qualche giorno per andare pienamente a regime e limare anche quelle sbavature che ci possono essere in prima battuta, però mi pare che ad oggi la cosa più importante è far partire regolarmente il servizio di trasporto scolastico, lo sottolineo, con mezzi completamente nuovi che era l'obiettivo e sia stato raggiunto. Difficoltoso come primo giorno? Come primo giorno diciamo ci hanno dato magari dei percorsi che non erano proprio così come ce li avevano consegnati e tutto sta a saperci poter organizzare per poi partire nel migliore dei modi. Tutto è bene quel che finisce bene? Sì, va bene, speriamo che l'anno scorresse bene. I nuovi autisti, come ci hanno confermato alcuni residenti della zona, hanno nel fine settimana effettuato prove di percorso per prendere conoscenza e confidenza con il tragitto e le soste, ma nonostante ciò qualcosa è ancora da mettere a punto. A Ponte Sasso e a Fenile in alcune vie non c'è stato il passaggio dello scuolabus, mentre in altre linee si sono verificati ancora disservizi e allungamento nei tempi di percorrenza. Anche all'uscita delle scuole, come a Carrara, si registrano tempi non proprio di precisione svizzera e hanno costretto ancora una volta i genitori a qualche fuori programma. Ed è su questi aspetti che si sta lavorando in queste ore e si lavorerà nei prossimi giorni.